Le nuvole e il tempo incerto promuovere tutte le discipline sportive del territorio, una trentina le associazioni presenti. Grande interesse, soprattutto da parte dei più piccoli, per le dimostrazioni sportive e grande successo per la parete di arrampicata. Al Centro Sportivo alla Parada è stato allestito una sorta di campo pratica. Adulti, famiglie e bambini, con l'imminente avvio della nuova stagione sportiva, hanno potuto mettersi alla prova con le diverse discipline, dalla pallavolo al karate, dal tennis al tiro con l'arco, dal rugby all'hockey. Tutti alla ricerca dello sport da mare.